ciao ragazze buongiorno allora oggi vi parlo di un'altra collaborazione con un'azienda che voi già conoscete molto bene la conoscete bene perché l'abbiamo messa spesso volentieri all'interno delle nostre box delle box tipo la summer piuttosto che il calendario dell'avvento che abbiamo fatto già per due anni consecutivamente quindi avete trovato diversi prodotti avete imparato ad amarli e ad apprezzarli state facendo tantissime domande è motivo per il quale abbiamo scelto come vi ricordate 15 giorni fa delle blogger che faranno dei video per quanto riguarda la presentazione di alcuni prodotti e oggi vi volevo far vedere anche quello che ho ricevuto io da parte di questa azienda che vi ripeto io personalmente la conosco da quando il gruppo di vanity praticamente nato la vera collaborazione più stretta a livello anche di presentazione prodotti a voi di collaborazione per creare di bio box la summer bio box piuttosto che i vari calendari dell'avvento è una cosa che risale bene o male circa da un anno e mezzo fa l'azienda si chiama qualico sargan è un'azienda che vive praticamente alla sua base a siena quindi siamo in toscana è un'azienda non dico piccola perché non è sicuramente una realtà artigianale molto contenuta però mantiene sempre inalterata all'interno dell'azienda questa bellissima filosofia di creare al loro interno un bellissimo formulatore gianluca che saluti ciao molto bravo che mi sopporta e hanno insomma tantissime idee sempre in corso quindi nonostante la loro realtà non sia una realtà immensa hanno sempre questa voglia di fare di creare linee di dare insomma al consumatore finale sempre dei prodotti nuovi ed innovativi allora che cosa ho ricevuto all'interno di questa bellissima blog di box che è la stessa che hanno ricevuto tre ragazze tre vanitina all'interno del nostro gruppo e che andranno poi a presentare in seguito prodotto per prodotto faranno i loro video le loro recensioni io con questo video voglio presentarvi inizialmente quello che ho ricevuto che già bene o male conosco perché io i prodotti di quali costa li uso già da da diverso tempo quindi ho imparato ad apprezzare quelle che sono insomma le loro le loro caratteristiche e la loro soprattutto funzionalità sono prodotti molto performanti sono prodotti che hanno comunque promettono determinate cose e alla fine la mantengono anche poi bene o male nel gruppo vedo che tanti di voi hanno avuto modo come vi ripeto con le box varie che abbiamo fatto di provarli siete tutte veramente molto contente allora che cosa ho ricevuto poi nel video mi metto anche la fotina dei prodotti all'interno della scatola perché la blog era veramente curata nei minimi dettagli ed è stato un piacere riceverla è stato un piacere aprirla ed è stato quasi un dispiacere dover tirare fuori tutti i prodotti perché era veramente composta con tanto amore allora la prima cosa che ho ricevuto e che sono già praticamente alla stessa confezione bene o male sapete che io per quanto riguarda la detersione del viso vado molto con garanzia vado molto con la mousse del dottor tappi e un altro prodotto che io amo e che ho imparato ad amare soprattutto quando fretta la mattina è sicuramente questo parliamo del latte detergente 3 in 1 che al suo interno è arricchito con una miriade di estratti vegetali ci sono sicuramente l'olio di mandorle dolci è uno dei componenti principali di questo di questo prodotto senza però andare ad appesantirlo quindi chi ha la pelle grassa non si preoccupi perché comunque la formula nella sua interezza non non è comunque una formula pesante poi abbiamo l'olio di rosa moschetta che io adoro e che se riesco a ritrovare all'interno dei prodotti mi fa solo che felice abbiamo l'acqua di rose quindi c'è anche questa componente a cosa molto valida c'è un fattore di idratazione che conferisce appunto al al prodotto questo latte detergente che fa sia da latte detergente fa sia da tonico e fa sia e fa anche da crema idratante quindi abbiamo questo fattore di idratazione che alla fine non vi lascerà mai la pelle che tira la pelle secca questa sensazione fastidiosa che di solito sia quando si si utilizzano dei prodotti comunque soprattutto anche prodotti a rifacuo poi abbiamo l'estratto di fiordaliso è la l'argomento l'attivo principale che anche riportato alla schietta cioè sulla confezione di questo di questo prodotto poi c'è l'estratto di achillea abbiamo l'estratto di camomilla bio abbiamo l'olio essenziale di lavanda che è molto importante all'interno e un olio essenziale di arancio dolce praticamente questo latte detergente che cosa fa purifica detergente ed idrata contestualmente in un solo gesto quindi per voi che siete sempre di fretta per voi che desiderate comunque avere un prodotto performante un prodotto che fa comunque multifunzione questo sicuramente è un prodotto molto valido come utilizzarlo si massaggia delicatamente sul viso si lascia agire due secondi e poi si asporta tutto con la cellina di cotone piuttosto che con il fanno in microfibra o quello che comunque siete abituate ad utilizzare dopo vi dirò anche il sito quindi potete andare a sbirciare su quali costa c'è la possibilità hanno appena aperto e commerce quindi tutto quello che io vi faccio vedere si può comprare e tra l'altro abbiamo anche in previsione una promo quindi verso la fine di aprile comunque aprile maggio adesso devo guardare bene in agenda quando l'ho incastrata insieme a tutte le altre promo però ci sono anche loro e so che me l'avete chiesto ai mille siete e sono contenta di essere riuscita insomma di instaurare questa questo tipo di collaborazione soprattutto per regalare a voi uno sconto sarà una bellissima promozione quindi stay tuned perché sarete veramente molto molto contente allora poi ho ricevuto e due di queste le darò a voi perché ovviamente è inutile che io me le tenga e ne che le metta in vendita perché voi sappiate che i prodotti dicevo non li vendo mai ma li do a voi quindi bene o male tenetevi pronte perché farò un posto per regalare queste due creme che ho ricevuto in più allora la prima crema che ho ricevuto la crema viso anti age per le pelli secche che è quella che è ideale per quello che riguarda diciamo il mio tipo di pelle adesso devo decidere bene se questa o la pelli normale se devo essere sincero questa è quella per le pelli normali e poi abbiamo l'anti age per le pelli grasse qualica sargan è una delle linee che fa quali costenete presente che quali costa tra le sue referenze di ocu che voi sicuramente conoscerete a biomarsi poi a biomarsiglia con il sapone di marsiglia che vi ho presentato anche sul sito ci sono le recensioni poi a quali costarga quindi queste creme e il detergente che vi ho fatto vedere prima insieme a tantissimi altri prodotti tipo il perfezionatore viso che avete imparato ad amare tantissimo e che vi ha reso veramente entusiaste e poi un altro prodottino molto bello che vi lascio per ultimo adesso vediamo e poi ha dei dolci coccole che è una linea che nasce principalmente per la cura dei più piccolini dei piccini quindi per i bimbi è assolutamente dedicato ecco una cosa importante quali costa argan è certificata e cea è certificata a iab e poi ha tutte le iso varie la 9001 piuttosto che la 22 716 che sono quelle che comunque riguardano tutto il settore produttivo e l'identificazione delle materie prime che vengono utilizzate all'interno dei loro prodotti le creme viso che vi ho fatto vedere queste tre vediamo se riusciamo a tirarle su eccole qua queste tre creme viso qua sono ideali per contrastare praticamente i segni del tempo ricordatevi che anti age significa prevenire quindi una crema anti age si inizia ad utilizzare prima che ci sia il tracollo e si inizino a vedere quelle che sono le micro linee aiutano tantissimo a ridensificare quello che è il nostro tessuto connettivo e lasciano una pelle visibilmente luminosa visibilmente liscia ed estremamente compatta sono veramente molto confortevoli si assorbono subito non hanno mai questa sensazione di pelle unta fastidiosa di crema che non si assorbe no con questo sono anche delle validissime basi per il trucco al loro interno c'è sempre il famosissimo olio di argan perché ovviamente la linea si chiama qualicos argan poi c'è l'olio di macadamia c'è il duro di carité l'olio di mandorle dolci e anche qua tutta una serie di estratti veramente molto validi che vanno da fior da riso al pompelmo all'aloe bio abbiamo l'avena che anche questo è molto importante lo squalano e tantissimi altri a seconda poi delle creme che andiamo poi a scegliere altra cosa che ho ricevuto che fa parte della linea bio q che vi dicevo prima che è sempre comunque una produzione di qualicos è il fitoburro bellissimo vediamo se si zumba che stamattina eccolo qua il fitoburro corpo con l'olio di macadamia il burro di calité l'olio di mandorle dolci il ginkgo e l'estratto di aloe anche questo è bellissimo lo utilizzate è un burro che è bellissimo adesso non so se perché ho una luce strana comunque eccolo qua si vede così è estremamente confortevole non è per niente unto è il classico burro che tu metti lo passi lo massaggi bene sulla parte che vai a trattare non ti dà assolutamente questa sensazione di unto quindi vi potete rivestire immediatamente lo mettete dopo il bagno la doccia massaggiate fino a quando sia completamente assorbito e vi lascia una pelle estremamente villutata e molto morbida quindi anche questo se volete andare a vederlo sul sito della qualicos trovate tutta la linea della bio q compreso anche degli altri produttini che adesso vi faccio vi faccio vedere ovviamente nella mia blog non poteva mancare assolutamente perché ormai mi conoscono lo sanno e quindi non manca mai ormai non ho neanche più bisogno di dire non mi piacerebbe quello perché arriva già diretto è il fitotonico sempre della bio q è rinfrescante con il ginseng eccolo qua che bella confezione io adoro queste confezioni perché sono veramente belle poi rosa sono tanto femminili mi piacciono veramente tanto con il ginseng e la rosa canina ha un'azione purificante un'azione astringente un'azione riequilibrante è allato a tutti i tipi di pelle e ti regala una sensazione di benessere e di freschezza perché comunque il ginseng e la rosa canina sono veramente molto validi per quanto riguarda la cura della della nostra pelle ovviamente zero per cento parabeni paraffine oli minerali l'acocamidea i pegs less sls e robe varie che ci potrebbero essere dentro comunque di sintesi piuttosto che di derivazione petrolifera quindi questo è un altro tonicchino che è un profumo di rosa buonissimo quindi è il mio amore un'altra cosa che ho ricevuto bellissima e che anche io amo particolarmente perché per me le mousse sono proprio una coccola irrinunciabile mi piace proprio il discorso di premere di avere questa soffice nuvola di prodotto da poter utilizzare ho ricevuto dalla linea dei baby ma che io ovviamente utilizzerò e me lo uso uno schiaffo in doccia è la mousse detergente questa qua delle dolci coccole che è la linea per i bambini con l'estratto di camomilla l'estratto di calendula ci sono entro le proteine della soia è una mousse estremamente delicata va benissimo per la pelle dei nostri bimbi quindi non preoccupatevi assolutamente perché è una linea che nasce esclusivamente e prettamente per i più piccoli ma la possiamo utilizzare tranquillamente anche noi la possiamo utilizzare tutti i giorni perché non è assolutamente aggressiva e ti lascia la pelle molto morbida che non necessita di idratazione quindi anche questo come il latte 3 in 1 che vi ho fatto vedere prima non ti dà mai con la sensazione di pelle che tira fastidiosissima e che ti obbliga a dover comunque mettere tutto il fattore idratazione dopo quindi questo in abbinamento poi con il fitoburro ci sta veramente tanto altra cosa che ho ricevuto e che voi adorate è la maschera all'olio di arganna che è questa qui che è insieme al balsamo e a tutta la linea capelli di quali così vi consiglio vivamente di provarlo quando faremo la promo e di chiedere nel gruppo perché ci sono tantissime ragazze che mi hanno ascoltato perché mi dovete ascoltare che hanno provato i prodotti e sono diventati dei must have da non assolutamente perdere sono sulla mensura del bagno in quantità industriale praticamente questa è la maschera è una maschera che idrata e ristruttura i capelli secchi opachi spenti tutti quei capelli che magari hanno subito trattamenti o che semplicemente arrivano da dei trattamenti non bio quindi si riconi non si riconi piastre permanenti ripetute stirature ripetute quindi una maschera che assolutamente va benissimo perché al suo interno ovviamente essendo sempre quali cosa arganna abbiamo ovviamente sempre l'olio di arganna però abbiamo anche gli aminoacidi della soia che sono a basso peso molecolare e quindi riescono a penetrare molto in profondità nella struttura del nostro capello e gli danno gli conferiscono un aspetto molto idratato molto sano e molto lucente quindi vi danno proprio questa caratteristica come i miei lucidi e che quando li tocchi li senti molto molto morbidi poi al suo interno c'è sempre l'olio di jojoba c'è l'olio di avocado c'è l'olio essenziale di rosmarino l'olio essenziale di basilico vado a memoria c'è sempre l'estratto di aloe vera biologico e c'è anche l'estratto di fieno greco però un'altra componente importante per qualsiasi tipo che di prodotto che va comunque a lavorare sui capelli è la malva le mucillagini della malva sono favolose avete imparato a conoscere le mucillagini della malva quando vi ho consigliato di usare fito la fito 7 piuttosto che la fito 9 le mucillagini sono estremamente idratanti ed emollienti riescono anche loro a dare questa sensazione di comfort al capello penetrando senza appesantirlo sono quei classici prodotti che quando tu metti chi è abituata ad utilizzare la fito lo sa li metti e spariscono nel senso non hai più nemmeno sulle mani questa sensazione di unto di oleosità o magari le punte che si appiccicano perché il prodotto è troppo pesante come densità e quindi non riesce bene ad idratare il nostro il nostro capello le mucillagini anche in questo caso presente all'interno di questa fantastica maschera vanno tantissimo a dare questa sensazione di idratazione quindi le mucillagini della malva insieme agli aminoacidi della soia che sono comunque a basso peso molecolare vi regalano veramente una chioma molto 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 idratata rimpolpata quindi gli danno quella sensazione di benessere di capello sano e ovviamente vi come dire non vi tolgono le doppie punte voi sapete che sono molto sincera se avete i capelli distrutti rovinati voi le punte ricordatevi sempre che ve le dovete tagliare tagliatevi le punte anche se avete i capelli che vi arrivano qua le punte sono una di quelle cose che dovete sempre costantemente mese per mese continuare a tenere a tenere idratate perché tagliate perché se trascurate le punte e dite ma si ci metto il silicone vabbè lì non stendo e non spreco parole perché non ho tempo per queste cose se invece dite ma si dai li curo con gli olietti così li mantengo bene intanto li faccio crescere poi li taglio no perché la punta tende a salire e vi rovinate i capelli quindi cercate sempre una volta ogni mese e mese e mezzo soprattutto se utilizzate tanto la piastra soprattutto se siete avvezze a fare comunque tanto styling con il phon le spazzole rotonde le spazzole piatto quindi tenete sempre i capelli a contatto con delle fonti di calore importante teneteli tagliati riescono molto più forti restano sempre belli lucidi e non avete il problema che le mezze lunghezze poi vadano a rovinarsi quindi questa è la mia bellissima bloggy box adesso nel montare il video poi vi metto all'inizio anche le fotografie dei prodotti all'interno della scatolina vi faccio vedere anche la cura con cui è stata preparata questa bloggy bellissima da parte di qualicos vi invito nel gruppo a parlare dei prodotti mi piace anche sentire quelle che sono le vostre idee le vostre opinioni cosa avete provato cosa non avete provato che cosa vi ha entusiasmato che cosa non vi ha entusiasmato e poi ricordatevi che a breve breve tra un mesettino più o meno ci sarà questa collaborazione questa promo quindi tutti i prodotti che vedrete sul sito di qualicos andate a vederlo che sono tra l'altro in vendita così intanto cominciate magari a studiarvi anche tutti gli altri prodotti della bio q perché ci sono delle creme dal giorno che hanno anche un ottimo prezzo quindi non parliamo di prodotti che hanno dei prezzi eccessivamente alti ma sono prezzi che sono bene o male alla portata di tutti e poi sul sito sempre della qualicos che è sempre in costante mutamento perché lo stanno integrando anche col nostro aiuto stiamo cercando di trovare un po i punti per avere un e commerce seario e un e commerce che riesca a dare a voi tutte una panoramica completa ci sarà l'esperto ci sarà l'esperto risponde quindi qualsiasi tipo di domanda dovreste avere dovreste avere nella inerente a qualsiasi tipo di prodotto ci sarà anche questo bellissimo servizio andate vedete di studiateli e poi ci riaggiorniamo nel gruppo ok ciao vi è stato un piacere e adesso monto il video mi metto anche le fotografie e ci riaggiorniamo al prossimo video che l'ultimo che devo fare finalmente sono riuscita a mettermi in pare che è quello sulla cellulite ciao ragazzi un bacio ciao 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 ciao